C'è un'organizzazione più grande che c'è in Holanda. Non ha rappresentato il 65% del tour di Horeca, con 28 mil negoziati in Horeca. Il candidato di Hendersutra è arrivato a 440 mil. Non c'è molta esperienza, non c'è 138 anni che c'è in Cava. Non c'è tanta esperienza che può aiutare qui nella Corsau. Non c'è tanta esperienza, non c'è un'isla piccola e non c'è un certo limite. Non c'è un porto che c'è un'organizzazione con tanta esperienza con la nostra organizazione e la Corsau in generale. Non, non c'è un miembro di direttiva qui nella Corsau, con un club di Horeca in Nelant, non c'è un'organizzazione con la Corsau, con un'organizzazione con la Corsau. Non c'è un'organizzazione con la Corsau, con un'organizzazione con la Corsau, con un'organizzazione con la Corsau. Non c'è un'organizzazione con la Corsau, con un'organizzazione con la Corsau, con un'organizzazione con la Corsau. Non c'è un'organizzazione con la Corsau, con un'organizzazione con la Corsau. Non c'è un'organizzazione con l'organizzazione con la Corsau. che ci sono un problema che ci sono un problema con un po' di loro che non hanno un pensio. Quindi ci sono anche un progetto che ci sono stati di solito. Quindi ci sono diversi costi, ma che ci sono non per aiuto.